Erano belle quelle domeniche degli anni sessanta, quando poltrivamo un po' più a lungo a letto, ma lo facciamo anche oggi di domenica, poi ci si alzava, si faceva colazione, si faceva la doccia, e poi però all'ora di pranzo le famiglie si riunivano, famiglie, parenti, grandi tavolate, magari lo si fa ancora oggi, però c'era una atmosfera molto diversa, c'era la atmosfera di una società e di una realtà italiana la quale entusiasticamente intravedeva un futuro migliore, nascevano le autostrade, la gente comprava e si poteva permettere più macchine, la 500, la 600, la 1100 della Fiat, erano le macchine più diffuse, c'era una speranza ed una gioia di futuro che oggi, ahimè, non mi sembra di vedere, sì, sì, si continua a poltrire la domenica mattina a letto, ma poi siamo sempre coinvolti, travolti da mille impegni, allora, no, il pranzo non si fa, ma si fa il brunch, poi andiamo a trovare Tizio Caio e Sempronio, ma che cosa fai per il weekend? No, io vado a Parigi, no, io vado a Londra, no, io resto a Milano naturalmente, ma facciamo una passeggiata di qui, facciamo una passeggiata di là, c'è sempre qualche cosa da fare, sono sempre troppe cose da fare, che belle quelle domeniche molto familiari, molto tranquille e cariche soprattutto di grandi, grandi speranze per il futuro. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.